Noi siamo i carciofi di Niceni, e noi siamo i più gustosi del mondo, noi veniamo esportati in tutte le nazioni. Noi siamo i carciofi di Niceni, e noi siamo i più gustosi del mondo, noi veniamo esportati in tutte le nazioni. Noi siamo i carciofi di Niceni, e noi siamo i carciofi di Niceni, e noi siamo i carciofi di Niceni, e noi siamo i più gustosi del mondo, noi veniamo esportati in tutte le nazioni. Noi siamo i carciofi di Niceni, e noi siamo i più gustosi del mondo, noi veniamo esportati in tutte le nazioni. A noi gli stranieri ci chiamano, Cosimo. Noi siamo i carciofi di Niceni e Paro, tutte le nazioni. Grazie a tutti.